Un'onda di emozioni, gioia, commozione e lacrime ha coinvolto gli alunni e i genitori della Quinta A del Plesso San Marco dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco in occasione dell'ultima rappresentazione teatrale della scuola primaria e il saluto alla maestra Patrizia degli Iaconi che li ha accompagnati nel percorso scolastico per cinque anni. Il titolo Bulli e Pupe, sul palco 25 alunni bravissimi e molto preparati che oltre a recitare si sono esibiti in balli e canti creando un'atmosfera coinvolgente. Il titolo Bulli e Pupe, sul palco 25 alunni bravissimi e molto preparati il titolo Bulli e Pupe, sul palco 25 alunni bravissimi e molto preparati Supervauesta Guadalco 25 alunni bravissimi e molto preparati out Guadalco 25 alunni bravissimi Grazie a tutti. Grazie a tutti.